Uomini e donne, scoppia la bomba su Daniele Gaia. La polemica non si ferma, sul web si è scatenato il caos Nella puntata di Uomini e donne andata in onda lo scorso 23 maggio 2024 è stata trasmessa la scelta di Daniele Paudice Il trunnista partenopeo ha succeduto il suo predecessore, Brando che è uscito mano nella mano dagli studi Elios insieme alla sua amata, Raffaella Si è messo in gioco senza riserve, mostrando immediatamente di possedere un carattere molto forte e, di avere le idee chiare È salito al trono infatti con un solo obiettivo, quello di incontrare una compagna di vita Per lui sono giunte in studio molte ragazze, ma ha scelto di conoscere in modo più approfondito Gaia Gigli e Mari Cabonato Entrambe more, entrambe bellissime hanno cercato di conquistarlo, ma Daniele al termine del suo percorso, ha compreso che Gaia fosse la ragazza giusta per lui L'extronista è un ragazzo forte e determinato, con un animo puro e nobile, ed un sorriso dal quale traspare la sua bontà Si è fatto apprezzare dal pubblico nonostante il suo percorso non sia stato particolarmente lungo, anche l'opinionista Gianni Sperti ha speso delle bellissime parole per lui Uomini e donne, Daniele e Gaia sul banco degli imputati, la verità è venuta a galla? Anche Tina Cipollari gli ha voluto fare un grande in bocca al lupo, rivelando che ha avuto modo di conoscerlo, ed ha scoperto che è profondamente sensibile, nonostante l'aria da duro Daniele, come è noto ha scelto Gaia Gigli, le ha detto che ha sentito qualcosa per lei non appena l'ha vista, un vero e proprio colpo di fulmine Si è dunque formata una nuova coppia, e tra applausi e felicitazioni, non sono mancate però le polemiche All'indomani della messa in onda della puntata in questione infatti, alcuni telespettatori hanno iniziato ad inviare delle segnalazioni ad influencer ed esperti di gossip che trattano anche delle questioni di cuore dei protagonisti del talk Stando a quanto si apprende, Gaia e Daniele non si sarebbero conosciuti grazie al dating Alcuni utenti sostengono infatti che i due si conoscessero ben prima di iniziare il loro percorso negli studi Elios e, che non abbiano messo al corrente la relazione di ciò Per questo, in rete si è scatenato il caos e, taluni ritengono che la scelta non sia stata vera e autentica Nelle ultime ore un telespettatore ha inoltrato una segnalazione anche ad Amedeo Venza, il quale ha ripostato il messaggio attraverso delle storie Instagram Per il momento non è possibile affermare con certezza se le segnalazioni sul loro conto corrispondano al vero o meno, infatti né Daniele né Gaia hanno rilasciato dichiarazioni in merito Di certo però, la verità prima o poi, verrà a galla e, in tal caso, dovrebbero dare spiegazioni, le richiedono a gran voce i fan del programma